Venerdì 3 maggio, buongiorno e ben ritrovati per il nostro consueto appuntamento del mattino, la rassegna stampa, andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola stamane, daremo come sempre un'occhiata alle prime pagine per scoprire attraverso i titoli in primo piano quali sono i temi caldi, gli argomenti principali di oggi. E allora cominciamo subito il nostro giro, lo facciamo partendo dai quotidiani siciliani, il quotidiano La Sicilia, tanti temi affrontati, stamane Blutec, catena di smontaggio, titola La Sicilia, giallo su Termini Merese, Shara Holding annuncia ricorso sul bando vinto dal gruppo Pelligra, ma non lo presenta al Tar. Armi e cannabis, i primi veleni, si parte fra scontri e provocazioni, il voto in Sicilia, tutte le liste, alcune in forse, è una mappa ragionata di partiti e candidati, chiaramente tutti gli approfondimenti poi in vista delle elezioni europee con tutti i candidati appunto all'interno del quotidiano La Sicilia. Vannacci tra i candidati debutta appunto da candidato leghista, da Ferugli a Napoli e poi le curiosità sempre tra i candidati, parenti eccellenti e tanti soprannomi, le liste da leggere, scrive la Sicilia. Ancora morti sul lavoro, la strage continua a Floridia, operaio sotto una trave, altre due vittime a Napoli. Mano d'opera in nero, dagli appalti alle case la stretta del governo arriva per decreto e poi assunzioni in calo tra aprile e giugno, la Sicilia peggiora, il dato del 2023, si parla dunque di lavoro. Da Alicudi a Stromboli, ponte da dimenticare, sarà un'estate difficile, corse saltate alle eolie, in questo caso invece il focus è sui collegamenti per le eolie, doppio SOS ai prefetti, per l'acqua che manca nelle città e in campagna, da Caltanissetta a Catania, dunque Sicilia ancora in piena emergenza, siccità. Notizia da Londra, Kate Middleton, di nuovo operata in gran segreto da un'equip italiana, Milano, il periodo nero di Chiara Ferragni, che è stata licenziata anche da Pantenne. In taglio alto, Angelina Mango, l'incantatrice, già pronta a conquistare il pubblico dell'Eurosong, giro delle città partendo da Catania, bimbo si smarrisce ma fortunatamente viene trovato dai carabinieri, rissa invece tre deferiti per lesioni sempre a Catania, a Caltagirone, lotta alla violenza, dice il nuovo procuratore, mentre a Taormina per quanto riguarda la gestione discusa del Palacongressi, il Tar dà ragione al Comune, dà ragione dunque all'amministrazione guidata dal sindaco Cateno De Luca. Lasciamo il quotidiano alla Sicilia, restiamo però nell'isola, lo facciamo con la prima pagina del giornale di Sicilia che apre con una notizia che riguarda Palermo, dilagano i rifiuti, sale però la tassa. Il Comune di Palermo ha aumentato la Tari, nonostante la città sia invasa dall'immondizia. La protesta delle associazioni dei consumatori, rincari sulla pelle di chi paga, gli evasori continueranno a non farlo. Il governo difende il bonus ma è scontro, bonus che sarà di 77 euro e poi verso l'europeggio, chi fatti in Sicilia, 10 liste, 80 candidati. Saguto, altro processo a Caltanissetta per falso e poi ampio spazio stamane in prima pagina al calcio e alla situazione del Palermo in Serie B. Palermo che va in ritiro per salvare i play-off, la decisione della società dopo la sconfitta con lo Spezia perché il play-off non è ancora certo al 100%, restano delle partite, bisogna fare dei punti importanti e poi eventualmente preparare nel migliore dei modi proprio i play-off. In taglio laterale l'ombra del racket sul rogo di 3 e tir, ride vicino allo Zen a Palermo, delitto fra Galà per tre anni in carcere, risarcimento di 300 mila euro per Francesco Paolo Cocco, assolto dalle accuse dopo il lungo periodo di detenzione. Ultimo caso invece a Niscemi, si tratta del raggiro dell'incidente con il nipote, è stata truffata un'altra anziana. In taglio alto, stagione verso il debutto, ecco la Iace a Siracusa, studenti mobilitati per i palestinesi dagli Stati Uniti a Parigi, università occupate in tante grandi città europee e anche degli Stati Uniti. Macron invece insiste se i russi sfondano si dovranno inviare truppe in Ucraina, il Cremlino minaccia l'Escalation. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa dalla Giornale di Sicilia, la prima pagina della Gazzetta della Sud, questi i titoli e quindi gli argomenti in primissimo piano. Vi adotto ritiro pronto a fine luglio, lavori a buon ritmo, ma per il completamento e il collaudo saranno necessari altri tre mesi. E dunque un ulteriore ritardo che rischia, vedete, di incidere nuovamente sul clu del traffico estivo. Altre notizie da Messina, un altro distacco idrico previsti disagi fino a domenica, ultimo intervento sul fiume freddo, respinto invece da ricorso sempre del comune di Messina, acqua e il sistema integrato promosso dal Tar di Catania. Macron insiste sull'invio di truppe in Ucraina, il presidente francese è un'ipotesi da valutare, se la Russia sfonda il fronte, Zelensky lo chiede all'Occidente. La denuncia degli Stati Uniti, Mosca ha usato armi chimiche e soldati di Kiev uccisi dopo la resa. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, Restiamo in Sicilia con la prima pagina dell'edizione di Palermo del quotidiano La Repubblica. Il ponte sullo stretto, nuovamente sotto i riflettori, troppo basso per navi da crociera e porta container. A parlare la presidente di Federlogistica Merlo, oltre a quello dell'altezza delle imbarcazioni, aggiunge c'è il problema dello spazio di manovrabilità. Nel progetto sottovalutate anche le previsioni di innalzamento del Mediterraneo. Dunque nuove critiche vedete al progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto. La politica, le elezioni e quel dilagante bisogno di cuffarismo. E poi parla Pasqualino Monti, la crisi del Mar Rosso, occasione irripetibile per i porti siciliani. Il caso Castello Tveggio, il cantiere infinito da oltre 10 milioni di euro. E poi la scuola, stretta sui diplomifici privati. All'Ars arriva il DDL del PD. Si parla anche di calcio. Palermo in ritiro, un gruppo fragile, quello rosanero, tra l'alibi Corini e il flop di Mignani. Mignani, l'allenatore del Palermo, che ha sostituito proprio Corini, ma ancora a secco di vittorie. Cosimo, vittima della gelosia mafiosa, San Cipirello, gli intesta un bene confiscato. Questa è la storia stamane su Repubblica Palermo. Restiamo sulla Repubblica. Andiamo a vedere però la prima pagina dell'edizione nazionale. Si parla della crisi in Europa, la guerra in Ucraina con Macron, che adesso sfida Mosca. L'esercito russo avanza. Il presidente francese minaccia l'invio di truppe se la Russia sfonda il fronte. Salvini si dissocia. Gli Stati Uniti denunciano l'uso di armi chimiche contro gli ucraini. Allarme NATO. Troppe interferenze del Cremlino. Nuovo pacchetto di aiuti militari italiani all'Ucraina, intanto entro il G7. Da Repubblica alla prima pagina del Corriere della Sera, Atenei rivolta stop di Biden. La Casa Bianca, sì al dissenso, ma senza violenze e antisemitismo. L'accusa Mosca usano sostanze chimiche. Tregua intanto ore decisive. Amassi in Egitto per trattare. Macron, soldati in Ucraina, non è escluso, ha dichiarato il presidente francese. Ma qui il rischio è davvero concreto di escalation. Proseguiamo con la nostra rassegna. Ci spostiamo sulla prima pagina del quotidiano Il Messaggero. Chaos Atenei, contagio globale. Negli Stati Uniti arresti e sgomberi. Contro gli studenti pro-Palestina anche proiettili di gomma. Biden, basta antisemitismo. Tensione in Francia. A Milano, annullato un convegno su Israele. Nucleare, via ai mini-reattori. I primi impianti entro quattro anni. Dovranno garantire il 20% dell'energia nazionale. Il piano del governo sarà presto inviato a Bruxelles. E poi la calcio. Ieri l'Europa League, l'andata della semifinale. La Bayern spegne la Roma e ora la finale lontana. Leverkusen che vince per 2-0 all'Olimpico contro i giallorossi. La prima pagina del quotidiano La Stampa manovra la stangata dell'Europa. Il referendum sul Job Act spacca il PD e l'ischline prende tempo. Zaia intanto scarica vannacci. Non lo voterò, ma dichiarato in merito proprio al generale candidato all'Europe con la Lega. I calcoli di Bruxelles. 8 miliardi per aggiustare i conti. Altri 20 servono per tagliare IRPEF e Cuneo. Andiamo avanti con la nostra rassegna. Abbiamo ancora tante prime pagine da vedere insieme questa mattina. Ci spostiamo ad esempio sulla prima pagina del quotidiano Il Giornale. Andiamo a vedere quali sono i titoli in primo piano. Si parla proprio di vannacci. Strappo di Zaia. Non lo voto. Il generale. La Lega arriverà alla sintesi. Pensioni. Per l'anno prossimo torna l'ipotesi di una nuova quota 41. E poi il documento. I piani segreti dei pro Hamas per incendiare le università filo palestinesi infiltrati. Nei collegi statunitensi in rivolta. Indagato invece Fassino per il furto di un profumo. Si muovono i PM di Civitavecchia. E poi per quanto riguarda l'invio di truppe a Kiev. Tanto sostenuto dalla Francia. Meloni vedete Gela Macron. Eppure il vicepremier Matteo Salvini si oppone a queste parole. A questo pensiero da parte della presidente francese Macron. Il fatto quotidiano. Le elezioni europee. O meglio i candidati alle europee sotto i riflettori. Da Renzi a Sgarbi a Vannacci. Altri 20 impresentabili. Questi i candidati indagati. Le liste europee passate ai raggi X. Andiamo nel dettaglio. Pure i condannati. Come Polverini e Cota. Forza Italia. Il critico. Ovvero Sgarbi e Fidanza. Fratelli d'Italia. Il generale della Lega Inquisito. Il capo di Italia Viva imputato per Open. Lucano AVS ha il falso. Questi vedete. Secondo appunto il fatto quotidiano. I candidati che però sarebbero impresentabili. Tra condanne e altre circostanze. Altre situazioni. Il La Quotidiano al mattino affronta invece un tema molto importante e delicato. Ovvero le morti sui luoghi di lavoro. La strage continua. Titola Il mattino. Due morti nel napoletano. Una terza vittima in Sicilia. I sindacati parlano giustamente di numeri da guerra civile. L'ispettorato. Scarsa cultura della sicurezza. Il primo maggio gli appelli dopo il monito del Colle. Non solo i big consiglieri e sindaci in lista per l'Europa. Vannacci a Napoli. Scontri manifestanti polizia. Prima della presentazione del libro. E a proposito di proteste. In questo caso proteste pro-Gaza. Nei campus statunitensi. Irruzioni e arresti da parte della polizia. Usati proiettili di gomma sugli studenti. Caos e feriti. Si teme adesso l'effetto contagio anche negli Atenei europei. E poi vedete un sorridente spalletti a Napoli per il film Amarcord. Ieri sera la prima di Sarò con te a un anno dallo scudetto del Napoli. E poi parliamo adesso di sport. Andiamo a vedere le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. In primo piano chiaramente ci sono le gare europee disputate ieri. È andata bene diciamo all'Atalanta. Un po' meno bene alla Roma. Euro Scamacca titola la Gazzetta. E la bomber spinge l'Atalanta. Segna anche al Marsiglia che poi pareggia. Finisce uno a uno. Ma la Dea è certamente più vicina all'impresa finale rispetto alla Roma. Che invece subisce una brutta sconfitta in casa. Roma che botta. Titola infatti la Gazzetta. Cade all'Olimpico 0 a 2. Leverkusen non si ferma mai. Leverkusen imbattuto da tantissime partite tra campionato e coppe. Vince 2 a 0 all'Olimpico. Adesso servirà alla Roma una vera e propria impresa per ribaltare il risultato in Germania. Il Corriere dello Sport apre proprio con la Roma di De Rossi. Si accettano miracoli. Xabi Alonso allenatore dell'Everkusen domina all'Olimpico. La semifinale d'andata. Pasticcio di Carsdorp e Bayer spietato. Poi la 2 a 0 è arrivato nel secondo tempo. E appunto Roma battuta. Una Roma che non ha brillato nella gara di ieri. Ma chiaramente ancora tutto è possibile. Nulla è perduto. Chiudiamo con Tutto Sport. Mercato Juve. Rabiot United. Juve alle strette. Andiamo nel dettaglio. Il francese per restare vuole garanzie su tecnico e programmi. Il continuo rinvio della certezza Champions ha congelato Allegri i piani societari. Rabiot corteggiato dal Manchester. Il centrocampista non intende rinnovare senza sapere chi sarà l'allenatore nella prossima stagione. Dunque Rabiot perno della Juve di Max Allegri vuole certezze, vuole garanzie prima di firmare un nuovo contratto con il club bianconero. Ci fermiamo qui. Chiudiamo questa rassegna stampa odierna. Abbiamo fatto e concluso il giro delle prime pagine. Ovviamente l'informazione non si ferma sui nostri canali. Partiamo a breve con tutte le nostre edizioni di Spazio Notizia per aggiornarvi lungo questo venerdì. E allora l'invito non cambia. Rimanete con noi. A dopo. A dopo. A dopo.